controllo comunicazione siamo vivi bersaglio acquisito che diavolo è quello concludere era una trappola i russi l'hanno classificato un atto di guerra non dichiarato e la colpa è su di te la tua squadra perciò che succede ora la tua missione se accetterai di compierla ho un piano ma mi serve il tuo aiuto che cosa vuoi trovarli e poi dare fuoco alla loro base questo richiede una clearance di livello delto è addestrato dal controspionaggio in gamba ci saranno altri scontri a fuoco morirà altra gente non ho cominciato io ma andrò fino in fondo ce l'ho ma come l'hai mancato ti era vicinissimo la situazione si complica il mondo non è come sembra no signore vienilo a mente ho una cosa che vuoi tu dove ci incontriamo in un posto dove io possa vederti arrivare da lontano dovrai tenere gli occhi bene aperti prima di cominciare qualcuno preferisce scendere il suo lavoro è stato un dono per l'umanità ha influenzato il secolo e mi occorre che lei lo faccia di nuovo tocca a te e ora sai quello che sei e che cosa sei fatto vai hai la guerra nel sangue quando sei alle strette uccidere è facile come respirare vivere per niente o morire per qualcosa non c'è nessuno di noi che non vorrebbe essere altrove ma questo è quello che facciamo è quello che siamo non c'è nessuno di noi che non c'è nessuno di noi che non c'è nessuno di noi non c'è nessuno di noi a rule non c'è nessuno di noi che направisco serve Grazie a tutti. Dimmi dove è! Puoi perdere la tua fiducia in noi, ma mai in te stesso. Da ora sarà la tua guerra. Via! Hai viaggiato per tutto il mondo. Ora devi iniziare un viaggio interiore. Ciò che veramente temo è dentro di te. Se ti consideri qualcosa di più di un semplice uomo, se ti dedichi a un ideale, diventerai... qualcosa di totalmente diverso. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.